Nuovo appuntamento organizzato dalle associazioni Mascali 1928 Un'altra Storia e Archeoclub Sezione Area Ionico Etnea presso la chiesa dell'Annunziatella Annunziata di Mascali. Questa volta, protagonista dell'incontro è stato Carlo Ruta, che ha presentato il suo ultimo libro intitolato Il Mediterraneo, oltre gli jihad e le crociate. Dopo i saluti delle autorità e la presentazione curata da Don Carmelo di Costa, l'autore, insieme all'intervento di Don Giovanni Mammino, vicario generale della diocesi di Acireale, ha portato l'auditorio nei meandri della storia del Mediterraneo, mostrando i rapporti intercorsi tra l'Islam e l'Occidente, e presentandoli sotto una luce nuova, non di conflitto e opposizione, bensì di contatto e scambio dei saperi tra i popoli. L'intento di Ruta, dunque, è stato quello di mostrare un volto diverso del rapporto tra due etnie, rovesciando lo stereotipo che vuole far prevalere le nemicizie e le guerre, ampliando invece lo sguardo per cogliere il dialogo interculturale e rileggere la storia con una nuova prospettiva, utile a dare una nuova chiave di lettura per la comprensione delle vicende attuali. È importante per noi riflettere sulla nostra storia e sulla storia dei popoli del Mediterraneo. E purtroppo la storia spesso è stata interpretata a partire dagli scontri, dalle guerre, dalle lotte, e dimentichiamo invece di ripercorrere una filona di ricerca storica legata invece al dialogo, alle relazioni, agli scambi commerciali che generano poi degli scambi culturali e religiosi. Quindi se c'è una storia di scontri, nel Mediterraneo c'è anche una storia di incontri, di dialogo. Se da un lato a volte prevale l'integralismo, dall'altro lato invece prevale spesso la cultura del dialogo, dell'incontro e dell'approccio multiculturale. Grazie a tutti.